Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Ischia, guidati dal vicequestore Ciro Re, sono intervenuti presso un'abitazione a Barano, dove era stata segnalata una violenta lite familiare. Gli operatori, giunti celermente sul posto, hanno individuato le parti in lite e sono riuscite, sia pure a fatica, a riportarle alla calma. Le due persone coinvolte, una donna e un uomo, presentavano ecchimosi al volto e feriti alle mani e pertanto sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario del 118. I poliziotti hanno poi rinvenuto nei pressi delle scale interne dell'alloggio un mirino d'arma da fuoco, pertanto, essendovi fondato motivo che potessero essere occultate armi, hanno controllato a fondo l'abitazione dell'uomo, dove hanno di fatti rinvenuto all'interno di un borsone, una valigetta con una pistola soft air, piombini, walkie-talkie, 17 coltelli, di cui alcuni modificati, e due falcetti. Successivamente, gli agenti hanno accertato che la donna, dopo essersi presentata a casa del cognato per incontrare i suoceri, era stata aggredita dallo stesso, come peraltro accaduto in precedenti occasioni. Per questi motivi, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per atti persecutori, mentre tutto il materiale rinvenuto nel suo appartamento è stato sottoposto a sequestro.